6 gennaio 1980, Palermo, Via Libertà. Il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, viene raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Morirà a mezz'ora più tardi in ospedale. Al termine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, verranno condannati all'ergastolo come mandanti della sua esecuzione i boss della commissione di Cosa Nostra, Totori Ina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Francesco Madonia e Antonino Geraci, detto Nenè. L'inchiesta non riuscirà tuttavia a identificare i sicari né i mandanti esterni. Grazie a tutti.